La giornata si è aperta, dal nuvolo che era giù qua tutto bello sereno, insomma che ne entro. Via Triciladi, nuova Triciladi, Pradi, Val Germanasca, Piemonte Italia, primo febbraio 2020, forza! Ciao! 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 Siamo pronti! 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.